benvenuti a questa lezione in cui andremo a entrare nella clinica più precisamente andando a vedere dei casi un po più semplici che ci aiuteranno a descrivere le procedure step by step passo dopo passo per l'utilizzo degli allenatori in ottica preprotesica una volta che l'allinamento è terminato posso procedere con le tecniche restaurative che in questo caso si rilavorranno molto semplicemente solo al ripristino del margine incisale fratturato dell'elemento 21 e con una semplice otturazione diretta potrò andare a ricostruire quello che è stato perso senza di nuovo preparare denti e sacrificare a tessuto. Questo è il risultato che ho ottenuto dove mi sembra siano stati centrati gli obiettivi che ci eravamo preposti chiudere lo spazio tra 23 e 24 ricostruzione di 21 superare il cross bind di 12 risolvere l'affollamento dell'arcata inferiore. Grazie. Grazie.